salve salve da marco calabro sul canale amaci casa italia quest'oggi per conto dico credit stiamo vedendo un orologio imporri armani l'orologio che la proposta 0 18 dico credit credito facile vediamo che ha un costo lo sto muovendo con la mano perché si era mosso l'orologio quindi aveva coperto il prezzo un costo consigliato da parte di imporri armani di 299 euro andiamo a vedere l'orologio l'orologio è veramente un orologio molto gradevole una cosa che vediamo subito è il l'emporio armani vediamo qua il certificato di garanzia che ho deciso meglio dirlo prima sono orologi importati ufficialmente in italia da emporri armani cioè sono orologi del mercato nazionale non non vengono dal mercato dell'importazione parallela quindi hanno l'assistenza da parte della rete di di la rete di assistenza appunto della stessa emporri armani italia vediamo l'orologio l'orologio è molto bello molto particolare vediamo che innanzitutto che molto fine come spessore il vediamo all'interno che in una in una forma molto semplice ha praticamente le due lo alzo nuovamente con la mano in modo che lo vediamo meglio eccolo qua vediamo che ha i due indicatori che delle delle ore e dei minuti che sono due indicatori essenziali veramente minimalisti il non c'è presenza poi all'interno del quadrante di come vediamo di numeri l'unica sono praticamente delle linee che indicano le ore e i minuti delle linee minori più piccole e poi vediamo il brand la sopra emporri armani dove praticamente sarebbero le ore 12 come dicevamo è un prodotto molto molto fine vediamo il lo spessore veramente minimo essenziale e vediamo che sul l'indicatore vediamo se riusciamo a metterlo a fuoco che sul regolatore abbiamo anche il brand armani torna all'orologio la catena è una catena bella realizzata in cinque elementi come vediamo quindi impreziosita dalla qualità e quantità degli elementi e stiamo quindi sicuramente parlando di un orologio che si distingue e quando noi andiamo a vado nella parte sottostante vediamo se riesco a togliere eccolo qua si è tolto a togliere l'etichetta emporri armani vediamo nella parte sottostante che il controllo per aprire le due parti perché questo orologio è fatto in due parti il controllo per aprire le due parti è nella parte sottostante con la pressione alle due vedete le due alette una aletta di qua e una aletta di qua questo lo rende un sistema estremamente sicuro vediamo se riesco ad aprirlo adesso con una sola con una sola mano non riesco ad aprirlo in effetti eccolo qua si è aperto sono riuscito su uno dei due lati di uno dei due lati perché in effetti il sistema in questo caso così come negli orologi più sofisticati prevede eccolo qua la la seconda parte prevede praticamente l'apertura di due elementi li stiamo vedendo qua che hanno il classico piolino di chiusura vediamo le viti sulla struttura sicuramente stiamo parlando di un orologio è molto sofisticato eccolo qua il la presenza dei due comandi praticamente evita che possa nascere l'incidente che si apra il cinturino in avvertitamente richiudo uno testo per andare a richiudere l'altro eccolo qua questo orologio che stiamo vedendo di emporio armani viene proposto da co credit con delle rate da otto rate da 34 euro e 75 al mese consideriamo che è stato anche calcolato uno sconto del 7 per cento sul prezzo di listino di 299 euro sul prezzo consigliato al pubblico più che di listino diciamo le cose nella forma giusta sul prezzo consigliato a pubblico di 299 euro quindi uno sconto iniziale del 7 per cento e poi il pagamento con otto rate da 34 euro e 75 centesimi otto rate mensili per accedere a co credit credito facile bisogna essere maggioregni quindi possedere un documento d'identità la carta d'identità la patente o il passaporto e bisogna fare una fotografia questo perché il prodotto poi vi arriva direttamente a casa bisogna fare una fotografia del proprio viso con il documento d'identità poi bisogna riempire il modulo dei dati personali evidentemente in modo che l'azienda la co credit credito facile abbia tutti quanti i vostri dati bisogna dare anche due numeri di contatto di persone che vi conoscono che saranno contattate da co credit credito facile proprio per preguntare a queste persone se vi conoscono personalmente a questo punto serve una bolletta della luce oppure anche una fattura di telefonia fissa di un numero di telefono fisso se non l'avete voi considerate che va bene anche se la fattura o la bolletta di un familiare di un vostro familiare e se siete invece segnalati nella centrale rischi tenete in conto che bisogna avere un fidoiusore con tutti i documenti necessari ultima cosa la stavamo vedendo là sopra l'avevamo menzionata prima considerate che la garanzia è una garanzia italiana quindi stiamo parlando di un prodotto presente sul mercato nazionale dal dallo stesso brand grazie sempre per ascoltare i video di amaci casa italia arrivederci al prossimo video